Trovato il cadavere di Elena è stata la stessa madre a fare trovare il corpo della figlia. E' Roberto Lagalla il nuovo sindaco di Palermo. Il mio primo atto da sindaco ha detto sarà portare una corona al monumento delle vittime di tutte le mafie. Federico Basile è il nuovo sindaco di Messina. Era stato nominato dal sindaco uscente Cateno De Luca per la sua successione. A Palermo giovedì al Barbera la partita della vita per sostenere le persone affette da lesioni al midollo spinale. Ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione di Medianews e di oggi martedì 14 giugno. Apriamo con la cronaca trovata morta Elena la bambina di 5 anni che secondo il racconto della madre era stata rapita ieri a tre mestieri etneo. E' stata la stessa donna a fare ritrovare il corpo della piccola. Vediamo. Dopo una lunga notte di ricerche, verifiche e approfondimenti, oggi il tragico epilogo. E' stato infatti ritrovato il cadavere della piccola Elena, la bimba di 5 anni la cui madre aveva denunciato il rapimento da parte di uomini incappucciati e armati. Da quanto si apprende da fonti investigative, il ritrovamento della bambina è stato possibile grazie alle pressioni esercitate durante gli interrogatori da parte degli investigatori. E' stata la stessa madre a far trovare il corpo della figlia. La donna in un primo momento aveva raccontato di un rapimento della piccola avvenuto per mano di tre uomini armati e incappuzzati. La procura di Catania aveva subito aperto un'inchiesta affidando le indagini ai carabinieri della tenenza di Mascaluccia, paese dell'Interland di mamma e figlia. E' sempre ieri a tarda sera la procura di Catania aveva anche autorizzato la diffusione di due foto di Elena. Una scattata in cui si vede la piccola in un'immagine a riflessa sfocata, indossare una t-shirt a maniche corte e bianche e un paio di pantaloncini gialli. L'altra foto, datata all'8 maggio, dove la piccola indossa il sopra di una tuta e sorridente mostra un biglietto con in basso la parte finale della scritta cuori mamma in occasione della festa della mamma. Dopo una lunga notte di interrogatori, di familiari e conoscenti, stamane la donna in lacrima ha condotto gli investigatori nel posto in cui si trovava il cadavere della figlia. La notizia è stata confermata dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro. Sulla morte della piccola Elena non ha più parole Don Fortunato di Noto, il fondatore di METER, associazione a tutela dei minori. Sono paralizzato emotivamente e fatico a elaborare pensieri e ragionamenti, ha detto il prelato. I bambini soppressi ed eliminati e aggiungo abusati sono la piena e manifesta situazione non solo delle fragilità umane ma della disumana follia di un potere oppressivo e soppressivo del mondo degli adulti che non sanno gestire la rabbia e il loro fallimento e che cancellano come un file la vita dei bambini. Un fallimento che ci interpella per offrire punti certi di riferimento, di aiuto nelle conflittualità genitoriali e nelle tragedie che si consumano dentro le mura domestiche. Queste le dichiarazioni di Don Fortunato di Noto. Ma ora cambiamo argomento, parliamo di mafia a Palermo, colpo al mandamento di Santa Maria di Gesù. 24 arresti per estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e rapina. Vediamo il servizio. Associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina e trasferimento fraudolento di valori. I Carabinieri dell'Or Rosso, con il supporto dei militari del Comando Provinciale di Palermo, del nucleo Carabinieri Cinofili e del nucleo Aicotteri, hanno seguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 24 soggetti, 21 dei quali destinatari della custodia cautelare in carcere e 3 domiciliari. Le indagini sono state coordinate al procuratore aggiunto Paolo Guide, dai sostituti Dario Scaletta e Luisa Bettiol. Le indagini avrebbero consentito di conoscere gli attuali assetti associativi delle famiglie di Villa Grazia e Santa Maria di Gesù, che compongono lo storico mandamento protagonista delle più importanti vicende di Cosa Nostra Palermitane. Secondo gli investigatori, alcuni imprenditori attivi nel settore della distribuzione alimentare e dei giochi scommessi avrebbero messo a disposizione del gruppo le proprie attività imprenditoriali. A due di questi imprenditori è stata vietata temporaneamente di esercitare attività di commercio. Sarebbe stata fatta luce inoltre su una struttura parallela associativa che gestiva il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere della Guadagna. Durante le indagini, gli investigatori hanno fatto luce su un'attività estorsiva e danni di un'impresa edile impegnata in lavori nel territorio di Santa Maria di Gesù, sull'imposizione di una fornitura di bevande titolari di una sala ricevimenti, su una rapina e danni di un rappresentante di orologi, su un cavallo di ritorno ipotizzato con riferimento alla restituzione di un'auto rubata ai familiari di un soggetto ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa di Palermo Centro. Nell'ambito dell'organizzazione di una festa rionale sarebbe stato chiesto denaro ai commercianti, solo in parte destinato a coprire le spese. Gli affiliati si sarebbero occupati di aspetti della logistica e della sicurezza urbana, della modalità di chiusura delle strade, delle modalità di somministrazione degli alcolici. Infine, sarebbero stati avviati contatti con un noto cantante neomelodico, scrivono i carabinieri, a fine di concordare la partecipazione alla manifestazione, poi sfumata a causa del diniego dell'autorizzazione da parte dell'acquistura di Palermo. Diversi nuclei familiari dei soggetti interessati della misura cautelare, evidenzi all'arma, sono risultati percettori del reddito di cittadinanza. E ora passiamo all'ampia pagina politica, è Roberto Lagalla, il nuovo sindaco di Palermo. Il mio primo atto da sindaco sarà simbolico, porterò una corona al monumento alle vittime di tutte le mafie qui a Palermo. Poi dopo l'insediamento bisognerà interloquire con il governo nazionale sulla vicenda dei conti di Palermo, dove manca il bilancio da due anni. C'era un gran bisogno di cambiamento e di discontinuità a Palermo, perché avere avvelenato i pozzi della campagna elettorale con un uso politico della questione morale non ha fatto bene neanche alla sinistra. Non abbassare di un centimetro, di un millimetro la tensione e lo sbarramento antimafia, alimentando la cultura all'antimafia, è quella della legalità e della trasparenza degli atti amministrativi. Per questo ho già previsto nel programma anche un osservatorio autonomo per la valutazione della trasparenza degli atti amministrativi e la lotta alla corruzione, oltre le previsioni che già sono contenute nella normativa anticorruzione e nella legge 230. Il messaggio a Micedi è che è stata una campagna elettorale che forse anche per rispondibilità loro è stata avvelenata senza che ne abbiano tratto un giocamento reale. Sarà una città solidale, sarà una città accogliente, sarà una città attrattiva anche perché abbiamo grande bisogno di attrarre investimenti, di attrarre partecipazioni private e di fare restare qui i nostri giovani. Centro-Destra Unito è una soluzione politica che sta trovando riscontro in tutte quelle città, in quelle elezioni amministrative dove la coalizione è andata insieme. Io personalmente ho detto da sempre e continuo a dirlo che in ogni elezione si parte dall'uscente dopodiché bisognerà dimostrare che esistono condizioni che non favoriscono o non avvantaggiano questa soluzione però occorre dimostrarlo e occorre parlarne. C'è una coalizione, ci sono dei partiti, occorre sedersi attorno a un tavolo come è stato fatto per Palermo e trovare la soluzione per tutti e d'intesa tra tutti. Passiamo all'altro candidato, Franco Miceli. Le sue dichiarazioni in questa campagna elettorale non ho nulla da rimproverarmi. Il sostegno a livello nazionale nei miei confronti è sotto gli occhi di tutti non ho nulla da obiettare. L'impegno c'è stato ed è stato abbastanza significativo. Queste le parole, come dicevamo, del candidato a sindaco di Palermo dell'area progressista Franco Miceli a commento dei dati dello spoglio che hanno decretato la vittoria di Roberto Lagalla già al primo turno. Abbiamo sicuramente una vittoria al centro-destra e quindi la reazione del professore Lagalla che accolgo l'occasione per congratularmi con lui e per augurargli buon lavoro. Spero che il professore Lagalla possa dimostrare nel suo ruolo di sindaco la massima autonomia e indipendenza. Ho visto che il suo risultato elettorale è inferiore probabilmente a quello aggiunto dalle liste della sua coalizione. Noi andremo all'opposizione evidentemente perché pensiamo che questo non sia il governo utile alla città. Non abbiamo ottenuto il risultato sperato. Tuttavia staremo lì a lavorare in Consiglio Comunale nella città intanto per ricostruire un rapporto tra i cittadini e la politica, e la buona politica. Rapporto che si è profondamente lacerato nella nostra città, ma è un tema che riguarda anche altre grandi aere urbane, intanto però preoccupiamoci di Palermo. Questo rapporto tra governo politica e cittadini va ricostruito e questo sarà un impegno prioritario insieme agli altri temi che riguardano aspetti critici ed emergenziali nella città di Palermo. Lo faremo mettendo a disposizione la nostra presenza nel territorio, nelle proposte, nelle competenze che abbiamo al nostro interno e lo faremo soprattutto perché pensiamo realmente che questi cinque anni saranno decisivi per la città. Sarà l'occasione per far diventare Palermo una città europea. Il risultato elettorale è inequivocabile. Roberto Lagalla è legittimamente il nuovo sindaco di Palermo. L'ho sentito, mi sono congratulato. Questo è quanto è stato dichiarato da Fabrizio Ferrandelli, candidato anche lui a sindaco di Palermo per azione e più Europa. Nella conferenza stampa a commento dei risultati che ieri hanno consegnato la città di Palermo a Roberto Lagalla. Ascoltiamo le sue opinioni a caldo sull'andamento della campagna elettorale. Accetto il risultato elettorale, ho chiamato Roberto Lagalla, mi sono congratulato. A lui l'onere e l'onore di dover rappresentare questa città. Gli ho detto che nei ruoli ben definiti che prenderemo, lui da sindaco di questa città e io all'opposizione, non faremo sconti ma non alzeremo barricate pregiudiziali nell'interesse della città. Sono soddisfatto del risultato che è nato da un progetto condiviso dal basso con i palermitani e che oggi ci consegna una cosa inequivocabile. L'area politica che si è creata intorno alla candidatura di Fabrizio Ferrandelli è la prima forza politica della città e questa è una grande responsabilità ed è da Palermo che rivolgo anche un appello ad Emma Bonino, Benedetto della Vedova e Carlo Calenda che ho sentito di lanciare un grande progetto liberal democratico per l'Italia che vada oltre le stesse appartenenze e che possa dare al paese che in questi ultimi nove mesi ha votato questo progetto, dare a tanti cittadini quella casa per l'affermazione dei diritti e per l'affermazione dei propri ideali. C'è qualcosa in questa campagna elettorale che avresti voluto cambiare o qualcosa che avresti fatto in più? Io ho un grande dolore, ho un grande dolore che è quello che è accaduto ieri ai seggi, non alzerò nessuna polemica, accetto il risultato, per me la campagna elettorale si è conclusa ieri alle 23, di certo mi dispiace che sia stato compresso in alcuni casi anche fino alle 16 del pomeriggio, il diritto elettorale e il diritto alla partecipazione democratica. Tuttavia mi voglio affermare in questa coda di campagna elettorale come una persona che sportivamente riconosce agli avversari il risultato e mi rivolgo a tutti gli altri affinché da oggi ci si metta al lavoro per il bene di Palermo. Palermo ha urgente bisogno di chi si prende cura di lei e noi dobbiamo ognuno per parte chiudere la campagna elettorale e dedicarci alla gestione della città. E ora andiamo a Messina. Federico Basile è il nuovo sindaco della città, il candidato di Sicilia Vera che il primo cittadino uscente, Cateno De Luca, aveva nominato per la sua successione il giorno delle dimissioni ha battuto i rivali Maurizio Croce del centrodestra e Franco De Domenico del centrosinistra. Federico Basile diventa sindaco di Messina al primo turno. Il giovane candidato ha sbaragliato la concorrenza superando abbondantemente la soglia del 40 per cento. Escono sconfitti Maurizio Croce, candidato del centrodestra, e Franco De Domenico, candidato del centrosinistra, sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle che in città ha perso molti dei consensi ottenuti in passato. A Messina vince quindi la continuità visto che il neo sindaco è stato sostenuto dal primo cittadino uscente, Cateno De Luca, dimessosi nei mesi scorsi per potersi candidare alle prossime elezioni regionali. In piazza Duomo il neo sindaco Federico Basile ha festeggiato la vittoria col suo padrino politico Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera e migliaia di persone. In giro per la città come ho sempre fatto ma l'ho sempre fatto anche prima di diventare sindaco quindi è mente serena, null'altro che confermare all'interno la sensazione di grande soddisfazione e di affetto che ho ricevuto da tutti i messinesi e quindi sono già in giro al lavoro, un paio di ore di riposo e già da oggi si comincia a programmare la continuità. Ecco c'è tanto da fare, si parla di continuità, una continuità che è stata interrotta, un periodo di commissariamento, una lunga campagna elettorale, ci sono tante questioni che ora vanno riprese al più presto, quali ad esempio? Ci sono questioni che avevamo già avviato, avevamo già programmato, c'erano anche atti di giunta che indicavano la strada da percorrere, poi il commissariamento chiaramente sospende il periodo ma sono questioni che già conosco, che già conosciamo, che avevamo già affrontate quindi sotto questo punto di vista mi sento abbastanza sereno perché so già come e dove muovermi, ripeto la rimodulazione del piano che avevamo presentato l'1 febbraio, il primo atto che sicuramente andrà in giunta e poi in consiglio comunale, vediamo la composizione del consiglio, ora non so a che punto sono arrivati credo 174 sezioni, se non ricordo male da verità completate diciamo e quello è il primo tassello che poi apre tutta una serie di attività programmatiche, già ripeto nella mente di chi prima di me e oggi con me sa cosa deve fare per la città. Un'ultima battuta, ha fatto forse anche una riflessione sull'assenzionismo, sull'affluenza, lei sarà il sindaco della città dei prossimi 5 anni, avrà anche la responsabilità probabilmente di lavorare perché i messinesi possano nuovamente tornare ad avere quell'entusiasmo, quella voglia di partecipazione perché il 55% è davvero una percentuale molto bassa, peggio anche della precedente tornata. Io qua mi sento anche di dire che forse la scelta di fare l'Election Day con al di là di tutte le schede anche un margine di tempo non ampio come la mezza giornata non ha aiutato, probabilmente con la mezza giornata si sarebbero arrivati a percentuali simili o identiche rispetto alla scorsa tornata elettorale, peraltro se analizziamo le percentuali di affluenza da mezzogiorno di domenica in poi si vede che il trend è stato sempre crescente, quindi probabilmente questa scelta non ha pagato né a Messina né in tutto il resto d'Italia e questo è un dato che deve fare riflettere, grazie, questo è un dato che deve fare riflettere perché le scelte calate dall'alto forse, anzi sicuramente non danno neanche quello spazio democratico che invece la città merita. Continuiamo a parlare di elezioni amministrative a Palermo, secondo quanto previsto dalla legge elettorale alla coalizione vincente con una percentuale tra il 40 e il 60%, spettano 24 seggi, 16 invece alle opposizioni. Vediamo i nomi degli eletti. Roberto Lagalla è il nuovo sindaco di Palermo, secondo quanto previsto dalla legge elettorale alla coalizione vincente con una percentuale tra il 40 e il 60%, spettano 24 seggi, 16 andranno invece alle opposizioni da dividere fra le liste di Franco Miceli, eletto consigliere comunale in quanto candidato sindaco perdente e Fabrizio Ferrandelli. Nella futura composizione di Sala delle Lapidi capofila sarà Forza Italia, la lista di Silvio Berlusconi a Palermo si aggira intorno al 12%, conquistando così 7 seggi. Gli eletti certi sono Ottavio Zacco, Gianluca Inzerillo, Caterina Meli, Giulio Tantillo, Leopoldo Pianpiano, Daniele Puma. Seconda lista del centro-destra è Fratelli d'Italia con 6 seggi, già eletti Francesco Scarpinato, capofila della compagine con oltre 2.000 voti. Seguono l'eurodeputato Giuseppe Milazzo, Antonio Rini, Germana Consoneri, Tiziana D'Alessandro. 5 seggi conquistati invece da Lavoriamo per Palermo, lista civica di Roberto Lagalla che comprende anche gli uscenti di Italia Viva, eletti Dario Chinnici, Giuseppe Mancuso, Giovanna Rappa, Salvatore Alotta. 3 seggi a testa invece per Prima l'Italia, riconfermate le uscenti Sabrina Figuccia e Marianna Caronia e per la nuova DC di Totò Cuffaro con Salvatore Imperiale e Domenico Bonanno. Alla minoranza 16 seggi, 6 al PD con Carmelo Miceli, Teresa Piccione, Rosario Arcoleo, Giuseppe Lupo, Fabio Giambrone. 3 al Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo, Giuseppe Miceli e Concetta Mella. Sempre 3 alla lista progetto per Palermo, Miceli sindaco con Valentina Chinnici, Massimiliano Giaconia e Mariangela Di Ganci. 4 invece i seggi che spettano alla lista di più Europa azione, Fabrizio Ferrandelli, Leonardo Canto, Ugo Forello, Giulia Argiroffi. E ora andiamo alle reazioni politiche. Soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti regionali più autorevoli della coalizione di centrodestra per la vittoria peraltro già annunciata del candidato Roberto Lagalla. Si guarda avanti alle prossime regionali ma non mancano i distingui. Ascoltiamo. Se il centrodestra è unito vince e vince alle comunali al primo turno e alla regione tranquillamente visto che è turno unico, turno secco quindi vince tranquillamente. Il dato di Palermo è importantissimo come ha detto lei sia perché ci sono fra quattro mesi le elezioni regionali dove essendoci un turno unico. La coalizione dovrà necessariamente fare tesoro di questa vittoria e presentarsi unito in quell'occasione. Non dimentichiamoci che la Sicilia da sempre traccia il destino del voto nazionale. Qualche mese dopo le elezioni regionali ci saranno le elezioni politiche e dalla Sicilia parte sempre quella che poi è il risultato definitivo. Per cui l'esperienza di Palermo che se andrà come sembra sarà un'esperienza positiva va assolutamente ripetuta alle regionali per poi festeggiare la vittoria totale complessiva al governo nazionale. Intanto oggi vince non solo il centrodestra unito, vince il governo musumeci. Parliamo di un assessore che sin dal primo momento ho chiamato a far parte della mia squadra che si è distinto per impegno, per serietà, per fatturato amministrativo e lasciatemi dire che è un po' anche la vittoria del governo regionale, quella del professore Lagalla. Da domani ci mettiamo attorno a un tavolo e in poco tempo bisogna decidere quale sarà il perimetro della coalizione di centrodestra. Naturalmente noi ci auguriamo che tutte le forze politiche che hanno partecipato alla elezione del professore Lagalla possano riproporsi per le regionali ma occorre fare necessariamente chiarezza perché la volata finale deve essere compiuta con chi davvero crede nel centrodestra e non lavora per il centrosinistra o per far perdere il centrodestra e soprattutto la volata finale deve essere per chi si convinga che la lealtà nel governo e in politica premia sempre. Le furbizie hanno il fiato corto. Sono convinto che oggi sia una bella giornata di festa, da domani chiariremo all'interno del centrodestra quali sono i volti e quali sono le maschere. Non c'è amore per la coalizione, non c'è rapporti buoni con gli alleati, c'è sempre un qualcosa che non va. Io non capisco bene perché hanno sempre qualche motivo per non essere felici. A parte mia e lo musulmese c'è da tanto tempo. Oggi però per chi fa analisi di campagna elettorale, invito tutti voi giornalisti a valutare due dati siciliani che sono particolarmente importanti. Uno è il cateno di Luca che arriva al 50%. È un fenomeno che non si può fare finta che non ci sia, che non si può sottovalutare. Così come oggi qui a Palermo dobbiamo fare soltanto che i complimenti perché sarebbe stupido non farlo e sarebbe sbagliato non considerare questo dato come un dato da analizzare che è quello di Ferrandelli. Ora andiamo alle reazioni dei leader nazionali. Soddisfazione è stata espressa anche da Carolina Varchi e Renato Schifani per il centrodestra. Il bilancio politico è un dato essenziale. Il centrodestra unito, stravince, diviso, perde come rischiamo a Verona. È stata una campagna elettorale volutamente velenosa da parte di alcuni. Per fortuna i palermitani hanno ben compreso come la responsabilità di singoli candidati non potesse ricadere su quella dei partiti ai quali facevano riferimento. Roberto Lagalla sarà un ottimo sindaco come è stato un ottimo rettore e un ottimo assessore. Io ho sempre creduto nella candidatura di Roberto Lagalla perché Palermo ha bisogno di una svolta e nello stesso tempo verifico il crollo del Movimento 5 Stelle, nel senso che la venuta di Conte, la promessa del reddito di cittadinanza lascia il suo tempo. Credo che i palermitani abbiano capito che occorre lavoro vero, lavoro concreto e non sussidio di Stato. Da parte nostra io ho promesso a Roberto Lagalla, da parte mia, da parte dei parlamentari nazionali di dare una mano perché è impossibile che altre città come Napoli e Torino abbiano avuto dal governo dei prestiti sostanziosi da restituire per colmare il vuoto lasciato e noi non possiamo attingere ad un prestito statale da restituire in vent'anni per sanare ed evitare un dissesto che ci lascia Orlando. Qual è stato e qual è il ruolo di Fratelli d'Italia in questo risultato? Fratelli d'Italia ha avuto il ruolo di comprendere prima di altri che era necessario fare un passo di lato per condurre il centrodestra sulla strada dell'unità che è la strada della vittoria. Quindi rivendichiamo lo sforzo che abbiamo fatto per compattare tutta la coalizione attorno alla figura autorevole del professore Roberto Lagalla che sarà il prossimo sindaco di Palermo. Noi ovviamente saremo al suo fianco con la forza e i numeri che i cittadini vorranno tributarci. Io ho condotto una meravigliosa campagna elettorale al fianco di Roberto Lagalla. Le tre parole che abbiamo utilizzato più spesso per spiegare ai cittadini quale fosse il nostro progetto erano ascolto, programmazione e sostenibilità. Erano un progetto, adesso diventeranno la cifra di un'amministrazione, l'amministrazione che porterà Palermo fuori dalla palude. E lasciamo quest'ampia pagina dedicata alla politica. Cambiamo argomento. Palermo conto alla rovescia per la partita della vita che si disputerà allo stadio Renzo Barbera questo giovedì. Protagonisti sport, spettacolo e beneficenza per sostenere le persone affette da lesioni al midollo spinale. Si disputerà giovedì 16 giugno a partire dalle ore 19 allo stadio Renzo Barbera la partita della vita. Sport, spettacolo e beneficenza per sostenere le persone affette da lesioni al midollo spinale. Un evento non solo calcistico e di intrattenimento ma che rappresenta anche un forte momento di sensibilizzazione e di informazione su una tematica che in Italia interessa circa 90.000 persone con lesioni midollari. L'appuntamento del 16 giugno è promosso dall'azienda ospedale riuniti Villa Sofia Cervello, capofila del progetto regionale sulle mielolesioni, in collaborazione con la Federazione delle Associazioni Italiane dei Paraplegici, FAIP e Cittadinanza Attiva. La partita della vita vedrà in campo la nazionale italiana Comici, Nick con il capitano Roberto Lipari, la nazionale calcio DJ guidata da Merigo Provenzano, la squadra dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Medici Palermo con il capitano Giovanni Inburgia e una selezione dell'ASD Polizia di Stato Palermo, capitanata da Manfredi Borsellino, che daranno vita a un triangolare. Saranno disputati tre incontri al termine dei quali sarà decretata la squadra vincitrice. La serata sarà preceduta e accompagnata da momenti di spettacolo con diversi artisti siciliani e testimonianze sul tema delle mielolesioni che intratterranno gli spettatori. Tra i protagonisti è anche il duo comico Totti e Totino. 16 giugno c'è la partita importante della nazionale italiana Comici. Bellissimo, ci siamo pure noi, vero? Sì, e giochiamo in casa. Ma come in casa? Dove li mettiamo tutti quelli che sono tutti? Totino giochiamo in casa, non a casa. Giochiamo in casa, cioè giochiamo nello stadio di casa nostra, c'è il Renzo Barbera. Allora dillo che siamo allo stadio del Renzo Barbera, gli senti dire giochiamo a casa. Signore, è una partita importantissima. Ecco. Questa è una partita, qui si gioca la partita per la federazione autonoma italiana paraplegici. Mi raccomando, dovete vedere tutti perché l'incasso sarà devoluto totalmente alla federazione autonoma italiana paraplegici. Mi raccomando, 16 giugno. 16 giugno, stadio Renzo Barbera. Non venite a casa nostra perché non c'entrate. Perché c'entrate a casa, Totino. Non venite a casa, la gente si può confondere. Arriva Pinocchio, tutta un'altra storia. Inizieranno in autunno le riprese del film che rivisita la favola di Collodi. I protagonisti saranno per la maggior parte attori dilettanti, ma ci saranno anche due professionisti come Oreste Scelta e Totò Borgese che interpreteranno Il Gatto e la Volpe. Vediamo. La storia nasce attraverso, diciamo, un po' la vita che si trascorre nei giorni e negli anni che ho vissuto un pochettino di esperienze e mi è venuta fuori questa idea di creare questo film. Arriva Pinocchio, tutta un'altra storia. Un film che farà veramente scalpore perché è tutta un'altra storia. Tutti si immaginano la storia reale di Pinocchio, ma dietro c'è una bellissima avventura che sono tanti personaggi inventati da me e soprattutto personaggi siciliani, palermitani, alle prime esperienze senza, diciamo, quella caratteristica di essere attori, ma bensì attori improvvisati. E questa è la cosa più bella perché stiamo dando una possibilità a persone che hanno avuto sempre la voglia di fare qualcosa nella parte del film, nella parte del cinema e quindi dare una possibilità a questa gente che è stata messa sempre all'ombra di partecipare a questo mio film che, diciamo, ci stiamo puntando tantissimo. Pinocchio con due O perché ci siamo inventati due bambini, due Pinocchi. Quindi uno l'abbiamo già scelto, è Danilo Gelfi, un bambino palermitano. Il secondo lo cerchiamo, stiamo ancora, diciamo, facendo dei casting e cercheremo un pochettino tra la Sicilia, i paesi un po' limitrofi a noi, per cercare la seconda figura del secondo Pinocchio che, anzi, mandiamo un messaggio. Cercate la pagina Arriva Pinocchio su Facebook e da lì possiamo un pochettino prendere anche degli spunti su dei bambini che hanno delle qualità per fare il personaggio del secondo Pinocchio. L'abbiamo realizzato grazie a Nicola che il giorno prima, poche mese fa, mi aveva fatto vedere la sceneggiatura e mi ha detto di guardarlo e ha detto una bellissima idea. E perché no, Nicola? Facciamo! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.